Questa seduta del Consiglio dell'Unione Terra di Castelli di martedì 27 marzo, lascio la parola al segretario per l'appello. La parola al segretario. 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 Graziosi. Grazie. 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 e penso anche il gruppo, perché questa è la nostra lettura. Come diceva bene il consigliere, graziosi ci sono modi, luoghi e sedi opportune per entrare nel merito della questione. In questo momento noi votiamo dei verbali che registrano l'andamento di quella seduta e io questo faccio. Altri interventi? Se non ci sono altri interventi metto in votazione il punto numero 1, approvazione verbali della seduta precedente, favorevoli, contrari, astenuti, nessuno. Punto numero 2. Surroga del consigliere dell'Unione Stefano Solignani con un nuovo rappresentante del consiglio del comune di Castelnuovo Rangone e del consigliere Antonio Zagnoni con un nuovo rappresentante del consiglio del comune di Vignola. Come sapete il consigliere dell'Unione Stefano Solignani ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di consigliere dell'Unione Terre di Castelli in data 18 dicembre 2017, protocollo dell'Unione numero 46.394 e anche il consigliere dell'Unione Antonio Zagnoni, rappresentante del comune di Vignola, ha rappresentato le proprie dimissioni alla carica del consigliere dell'Unione Terre di Castelli in data 15 marzo 2018, protocollo dell'Unione numero 12.334. Inoltre il consiglio comunale di Castelnuovo in data 28 febbraio 2018 con delibera numero 3 ha nominato come nuovo rappresentante in seno a questo consiglio la signora Ivana Fraulini in sostituzione del dimensionario Stefano Solignani mentre il comune di Vignola, il consiglio comunale, in data 26 marzo con delibera numero 17 ha provveduto alla sostituzione della consigliere Antonia Zagnoni con il consigliere di Vignola e Mauro Smeraldi. Inoltre il 14 marzo con protocollo numero 12.136 il capogruppo Jacopo Lagazzi ha precisato l'adesione del consigliere Ivana Fraulini al gruppo consigliare centro-sinistra per le Terre di Castelli mentre con nota protocollo numero 14.136 del 27 marzo è pervenuta una nota da parte del consigliere Mauro Smeraldi nella quale dichiara di non aderire ad alcuno dei gruppi consigliari esistenti. Per quanto riguarda le commissioni il consigliere Ivana Fraulini viene designato quale co-sostituto del consigliere di missionario Stefano Solignani nella prima commissione affari generali e nella seconda commissione istruzione come da nota il protocollo numero 14.170 del 27 marzo da parte del capogruppo Jacopo Lagazzi mentre Antonia Zagnoni è stata sostituita nella prima commissione dal consigliere Niccolò Pesci sempre con nota numero 14.170 del 27 marzo da parte del capogruppo Jacopo Lagazzi ora quindi chiedo ai consiglieri se ci sono interventi o se si hanno a conoscenza di eventuali motivi di incompatibilità da parte dei nuovi consiglieri surroganti quindi Ivana Fraulini e Mauro Smeraldi se non ci sono interventi e osservazioni passerei alla surroga alla surroga dei consiglieri dell'Unione Stefano Solignani con il nuovo rappresentante del consiglio del comune di Scasta e Nuovo Rangone e del consigliere Antonio Zagnoni con un nuovo rappresentante del consiglio del comune di Vignola per l'immediata eseguibilità favorevoli contrari bene quindi invito i consiglieri Fraulini e Smeraldi a prendere posto prego Smeraldi voglio ringraziare il partito democratico di Vignola il partito democratico dell'Unione per aver consentito a Vignola Cambia di entrare nel consiglio dell'Unione abbiamo raggiunto come tutti sanno un accordo su questa questione è stato un percorso molto lungo e faticoso che mi dispiace per i politologi locali non ha nulla a che fare con le recenti elezioni nazionali cominciato molto prima è stato un gesto di coraggio credo da parte del partito democratico e forse anche per questo ha richiesto molto tempo per essere capito, discusso eccetera eccetera peraltro Vignola Cambia fin dal primo consiglio comunale quindi dell'estate scorsa aveva chiesto di dividere i due rappresentanti della minoranza tra PD e Vignola Cambia per quale ragione? per due ragioni primo perché Vignola Cambia rappresenta più di 2000 elettori di Vignola e ha raggiunto nelle ultime elezioni amministrative 21% dei voti e quindi in qualche modo considerando che l'Unione è un ente che è più importante in questa fase dei comuni noi siamo sempre stati convinti della necessità che anche questi elettori fossero in qualche modo rappresentati nel consiglio dell'Unione l'altra ragione è perché Vignola Cambia da sempre crede nell'Unione pensa che l'Unione sia un ente territoriale di estrema importanza che unisce le sinergie dei comuni che in qualche modo consente soprattutto di aiutare i comuni più piccoli comuni di montagna in quelli che sono i servizi che spesso sono al limite della sopravvivenza in questi comuni e anche a livello regionale uniti si conta sicuramente di più noi pensiamo che l'Unione Terre di Castelli in questi anni pur tra mille difficoltà abbia lavorato bene nei settori di sua competenza dopo parleremo della Polizia Municipale l'altro settore di grande rilevanza nel quale ha lavorato l'Unione sicuramente è il welfare è stato detto che in questi anni il welfare nell'Unione non è avanzato che non ha fatto delle cose nuove che sta vivendo di gloria e che scricchiola ora il sistema del welfare scricchiola a livello nazionale e anche a livello regionale nella stessa Emilia Romagna che pur è stata da sempre con Lombardia, Veneto, tra le regioni all'avanguardia però l'Unione Terre di Castelli rimane un punto di riferimento fondamentale per il lavoro che ha svolto e che sta svolgendo in materia di welfare questo grazie a degli operatori che ho avuto modo di conoscere anche se non avevo la delega molto bravi e grazie a un assessore l'attuale Presidente dell'Unione che ha sempre lavorato moltissimo e bene la stessa Regione con le sue visite sul nostro territorio ha da sempre riconosciuto questa valenza del welfare vi ricordo, giusto per non dimenticare quello che è stato fatto dal giugno 2017 in avanti di nuovo nell'Unione Terre di Castelli in materia di welfare ricomprendendovi anche la scuola ricorderete che per quello che riguarda il sistema scolastico è stata reintrodotta la qualificazione scolastica che era stata azzerata questo ha consentito a scuola di svolgere molti progetti ricordo fra tutti quelli degli scacchi che hanno una grossa rilevanza per il nostro territorio in materia più strettamente di welfare i progetti sono stati fatti nuovi progetti il progetto Ricomincio da me nel 2015 nel territorio di Castellano-Vrangone un appartamento a Montale un progetto di sostegno a persone fragili uomini soli e separati il progetto Aiutami a crescere che ha avuto inizio alla fine del 2015 ed è rivolto ai minori in carico al servizio sociale e professionale il progetto Dalle orecchie al cuore che ha avuto inizio alla fine del 2015 con l'obiettivo di creare sinergie tra il servizio sociale e professionale e i volontari il progetto partecipato è il Community Lab che sta finalmente partendo che si è sviluppato sul territorio di Vignola e che porterà alla realizzazione dell'emporio solidale distrettuale il progetto Affitto Tutelato finalizzato a favorire il riperimento della casa di abitazione ad affitto tutelato tra le fasce più deboli della popolazione l'apertura del centro antiviolenza e servizi di tutela le donne minori vittime di violenza